Head Superjoy è uno sci dedicato alle sciatrici dal quarto livello al sesto che vogliono progredire in relazione al livello dello sciatore con un raggio di 14 metri e 75 millimetri al centro nella lunghezza di 163 centimetri. La costruzione con anima in legno di pioppo e titanal tecnologia LYT e nuovo attacco Protector SLR. Gli sci hanno un profilo All Ride Rocker. Head Superjoy nella misura 163 l'ho provato in cima su neve dura e sotto con neve anche che va un po' verso la trasformazione quindi un po' più molle e la verità ho da dire che questo sci, anche se è una sci da donna che è comunque molto adatto per il livello 5 mi permette di fare tutti gli archi abbastanza bene e l'ho provato e permette anche a bassa velocità un po' di conduzione quindi mi sono divertita. Tiene molto bene la coda e infatti puoi provare a spingerlo comunque ti terrà sicuramente la coda. Nella parte frontale invece rimane un po' più duro, un po' più difficile da deformare e anche da inserire in curva se in conduzione mentre che comunque con una sciata tranquilla molto maneggevole e intuitivo per un livello 5. È uno sci da donna, è uno sci molto facile, intuitivo ma allo stesso tempo stabile. Uno sci che non richiede grande sforzo fisico e che consiglia soprattutto a delle sciatrici di un livello intermedio quindi da un livello 4 anche a un livello 6. È stato molto divertente, l'ho trovato con una buona risposta anche su un terreno con neve molle e sicuramente dato dei livelli più bassi, un L5 ma anche per chi si approccia ad un livello più avanzato come un L6. Facile e divertente su tutti gli archi di curva ma con una buona risposta elastica.